Stop armi ai privati, questo è lo slogan con cui come Rifondazione Comunista e come Giovani Comunisti ci presentiamo qui in piazza, qui a Voghera. L'idea è quella di combattere questa società che si sta imbarbarando sempre di più e in cui c'è uno sdoganamento delle armi e della violenza continua. Segnaliamo anche nella nostra provincia di Pavia i continui episodi di microcriminalità che nuociono il nostro territorio e che secondo noi andrebbero combattuti con degli spazi di condivisione culturale autogestiti. L'idea quindi è quella di riportare i ragazzi al centro, abbattere quel pregiudizio secondo il quale i ragazzi sarebbero interessati alla politica e fare in modo che i ragazzi vengano riportati al centro della società, i ragazzi al centro di quella che è tutto il centro culturale, politico e sociale della città.